Mi aspetterei che qualche ragazzo di 18 anni, di 20 anni, anche di 25, di 37, mi venisse a dire scusa ma quei 9 miliardi all'anno che paghiamo a chi ha più in pensione a 30 anni non li andiamo a recuperare? Non arriva molto spesso, diciamo, questa... ma anche se arrivasse la decisione politica del governo è stato che questo non è il momento per andare a togliere i soldi dalla tasca della gente. Anche se sono soldi di quel tipo lì, legittimi ovviamente, però sono soldi, diciamo, frutto di un'inequità intergenerazionale del passato. Quindi non c'è nulla di ciò allo studio, c'è esattamente il contrario, uno studio.